ragazzi iscrivetevi al canale di mister gorn che è veramente un grande amici del canale mister g riciclo e riparazioni è arrivato il pacco dell'otto di xbox 360 che ho preso su ebay tanto vi faccio vedere cose che c'è in riparazione anche lo stereo poi abbiamo qua xbox 360 che c'è il carrellino qua rotto c'è lo sportello che qua la molla è sempre quella più delicata che si rompe facilmente vediamo un po questo qua era compreso nell'acquisto ho pagato 5 euro non funzionante o mercatino dell'usata mia zona e c'era questo ha attaccato l'alimentatore però senza cavo che va a due 20 siamo qua a fare l'unboxing vediamo se riesco con una mano sola vediamo se c'è dentro tutto ballo è stato molto curato il ballo molto molto curato insomma qua c'è abbastanza spazio che si viene sballottato di solito quando si fa un pacco di soprattutto su di cosa elettronica vanno riempiti tutti gli spazi con materiale performante va bene la carta però va messa a messa a finire i spazi vuoti in maniera tale che qua viene un po bombato facendo così rimane rimane fisso dentro vediamo un po cosa abbiamo acquistato e ripeto se ricevere in mezzo abbiamo l'alimentatore con tutto a posto come come cavi però non funziona abbiamo tre joy pad che lasciamo dentro nella confezione anche questi qua non funzionanti l'imballo è stato fatto bene dai almeno dei joy pad e poi abbiamo la 360 la 360 in fondo in ballata con un foglio di pluribole dai ci può stare io siccome ho tre riparazioni come c'è nel titolo del mio canale anche riciclo ovviamente si riceverà anche il il pluribole e userò io magari se devo spedire qualcosa vediamo da quello che posso vedere io la prima chitto hanno tentato di smontarla c'è devastato tutto qua praticamente nella qua hanno sbattuto a terra hanno fatto sbattere a terra abbiamo a differenza di quello che ho preso al mercatino che vi ho fatto vedere abbiamo qua l'hard disk è presente invece di là non c'è un hard disk 60 gigabyte ottimo qua praticamente mancano tutti gli sportelli ma questi qua ce ne ho mai ho 6 xbox da riparare qua manca il tastino che è entrato dentro questo qua avete presente e niente qua bisogna testarle provarle e vedere se tutto è funzionante ho tentato secondo me di aprire siccome è molto difficile non spaccare niente quando quando si smonta una xbox 360 e vi ho detto c'è tanto di cappello chapeau a chi ci riesce senza rovinarla almeno un po niente dai questo piccolissimo video per farvi vedere gli ultimi arrivi e non ci resta che ripararli dagli una seconda una seconda chance di vita e facciamo funzionare alla grande sono dimenticato come ho visto c'è oltre il tappo della della gopro guarda un ballo con con onda singola non va bene io farò presente al venditore anche se per 16 euro e mezzo però c'è già era già spaccata la scocca comunque c'è un cavo di ricarica del joypad cavo di ricarica tutto 16 euro e mezzo e poi c'è ovviamente il cavo televisione e console che in teoria questo sono tutti da provare comunque testare abbiamo quindi xbox questo qua è dell'altro abbiamo un alimentatore cavo da cavo audio e video carica batteri carica batterie del joypad e 3 joypad pezzi sono avanzati nella grande se qua tutta roba da testare e vedere se funziona alla grande comunque già il venditore nell'inserzione ha detto che materiale non funzionante la cosa mi gira le scatole questo quale era nel nel pacco che mi gira le scatole che si era già rotta qua quindi la inserzione ho già visto che era spaccata qua che mancava qualcosa ma c'è vedere il trasporto me e meno male che la scocca era già rotta meno male che era già rotta meno male che era già rotta perché se la prendevo buona si spaccava durante il trasporto mi girava le palle perché il praticamente il l'imballo non era idoneo a un trasporto via corriere vabbè 16 euro e mezzo e quasi resta di che ci sembra il lavoro da fare e speriamo di trovare di dare vita come ho detto prima a queste cose mister corn mister g il riciclo di riparazione è tutto alla prossima prossimo video mettete like iscrivetevi al canale tante novità nuovo mi sono preso una nuova fase diciamo della riparazione anche se mi piace riparare tutto di queste le cose qua mi sto appassionando perché ovviamente io sono un ragazzo un bambino degli anni 80 anni 80 vuol dire comodo 16 comodo 64 poi sono passato l'amiga poi sono passato la ps1 xbox classic e poi mi sono fermato andando più avanti con l'età mi sono fermato recupero a quasi 50 anni si ritorno a giocare xbox 360 cioè bene mia moglie gli avevo dato qualche anno fa la ps2 slim si ritorna a giocare si si ritorna a divertirci come quando come tanti anni fa mai smettere di di giocare perché fa parte del nostro essere il gioco relax e divertimento alla grande da mister g riciclo di riparazione